Sicurezza nelle scuole a Città di Castello proseguono a pieno ritmo in questo periodo estivo di pausa dalle lezioni i lavori nei cantieri delle scuole tifernate interessate dagli interventi contro il rischio sismico cofinanziari dalla regione Umbria e dal comune. Gli assessori alla scuola Rossella Cestini ai lavori pubblici Luca Secondi insieme ai dirigenti del settore urbanistica Federico Calderini e al responsabile del servizio Stefano Mori hanno effettuato un sopralluogo ai cantieri di Trestina scuola media ed agilionido e a San Secondo scuola infanzia primaria. Gli interventi alla scuola di San Secondo sono i medesimi previsti per le scuole di Cerbara e Latina. I lavori sono in fase di completamento con alcune finiture esterne programmate in questi giorni. L'intervento realizzato ha richiesto uno stanziamento di 623 mila euro. Anche la scuola media di Trestina è interessata da lavori di riduzione del rischio sismico che in due lotti hanno riguardato l'intero edificio compresa la palestra. In questo caso il miglioramento sismico si riferisce ai nodi di congiunzione tra le travi ed i pilastri che sono stati rinforzati mediante impiego di nastri in filamenti di acciaio per poi riproporre la finitura superficiale a calce tinteggiata. Con l'occasione sono stati ridefiniti anche gli spazi della segreteria e dell'atrio di ingresso già riconsegnati all'uso durante lo scorso anno scolastico. I lavori in corso permetteranno il riutilizzo di tutti gli spazi anche quelli del padiglione nord della palestra per l'avvio del nuovo anno scolastico. L'intervento nel suo complesso si aggira su 1 milione 240 mila euro. La settimana scorsa sono stati avviati inoltre anche i lavori dall'asilo di Trestina per la sostituzione dell'intera soffittatura in gesso e per eliminare i pericoli degli elementi non strutturali. Con l'occasione sarà rinnovata la tinteggiatura interna per personalizzare i vari spazi di attività in cui è organizzato il layout delle sezioni di asilo. L'importo previsto è di quasi 35 mila euro. Oltre agli interventi sopra descritti e quelli indicati in occasione della visita della settimana scorsa primaria di infanzia di Cerbara primaria latina Asilio Franchetti è già programmato il rifacimento dei servizi genici presso l'asilo Franchetti.